La straordinità del ritenimento è che operi in pronti, in antichità, per armi, per monete, quindi il fatto di avere diverse, male. Non so che non ha nessun altro paese al mondo. E questo è quello che si tratta di un'opinione, e lo rappresento di un'opinione, e lo rappresento di un'opinione, perché sul braccio sinistro... Il rato, il ruolo, il ruolo, il ruolo, e il problema è che ha iniziato a fare un'opinione. Ci sono un'opinione. Grazie. Grazie. Scegliamo e perciò la grazia.